Ciao a tutti, se avete visto il mio ultimo video, quello che parla delle antenne del Mavic Mini vi sarete accorti che ho parlato delle antenne Alien Tech in cui avevo citato che utilizzano due antenne separate una per i 2 GHz e 4 e una per i 5 GHz e 8 è vero, ma guardando meglio una fotografia dell'interno del PCB dell'antenna mi sono accorto che c'è in realtà un miscelatore che mixa le due frequenze e le riporta sui due canali del controller quindi in realtà il risultato è che il controller, il radiocomando riceve entrambe le frequenze su entrambi i cavi RF vi faccio vedere quello che si vede guardando meglio la figura Ecco qui, dunque questa è l'immagine del PCB interno delle antenne dell'Alient Tech in una vista non accurata si potrebbe portare a pensare che la 2,4 GHz si trova sulla destra e vada a finire su un cavo eccolo qua, questi sono quelli che io chiamo canali, questi RF neri si può pensare che questa sia la sezione dedicata alla 2,4 GHz questa qua, si può pensare che sia la 2,4 GHz e che da quest'altro lato sia la 5,8 GHz ma invece un occhio più attento facendo uno zoom eccolo qui nota che qui c'è una serpentina questa serpentina in realtà porta a combinare le due sezioni del PCB questa è la sezione dedicata ai 5,8 GHz questa è la sezione dedicata ai 2,4 GHz ma questa serpentina unisce, mixa le due frequenze e le porta ad entrambi i cavi ecco quello che avviene questa tecnica che è molto utilizzata in RF permette di miscelare sullo stesso cavo due frequenze differenti e permette anche di dividere la potenza e far sì che il power, cioè i watt vadano a finire nel verso giusto ecco adesso vi faccio vedere qualche esempio che ho ricercato su internet eccolo qua questo è un esempio di power splitter vedete è molto simile sono molto simile questo qua è molto simile questo è solamente con una sezione di serpentina qui vedo sembra una resistenza non riesco bene a vedere che cosa sia potrebbe essere anche un diodo per evitare che passi il power da una parte all'altra eccolo qua questo è un altro esempio qui fa vedere anche qui in questa sezione vediamo se l'ho caricato questo è per le frequenze di 968 MHz è quasi un GHz e 8 probabilmente è telefonico e fa esattamente la stessa cosa cioè riesce a combinare due frequenze telefoniche sullo stesso cavo quindi significa che le antenne della Alientech che in realtà vanno a finire entrambe su tutte e due i cavi su tutti e due gli input della radio e sono perfette quindi sfruttano anche quella che probabilmente è un diversity perché cercheremo di capire in un altro video se solo un lato trasmette e l'altro riceve ma in ogni caso sono perfette le antenne dell'Alientech funzionano benissimo e passa la 2,4 e la 5,8 GHz su entrambi gli input e quindi tutto bene ciao a tutti grazie grazie grazie